E nell'ambito di queste riforme che noi riteniamo possano camminare soltanto se camminano sulle gambe di tutti i cittadini, non se sono un'idea dei parlamentari o del governo, ma solo se sono condivise da un'intera comunità, possiamo far tornare a correre il nostro Paese. Nell'ambito di queste riforme per noi però ha assunto un ruolo fondamentale anche la legge sulla cittadinanza, quindi per noi il tema riforme e cittadinanza è sicuramente inteso in senso ampio come riforme istituzionali, come nuovo rapporto con i cittadini, ma anche nel concreto, nello specifico, in proposte normative che riguardano specificamente la cittadinanza e che anche da questo punto di vista ci portino al passo con i tempi, oserei dire. Riforma sulla cittadinanza che è stata già votata dalla Camera dei Deputati, adesso è all'esame della Commissione al Senato, ma che anche da questo punto di vista ci fa fare, è secondo me un bagno di realtà. Immaginare oggi una società che non tenga conto delle sfaccettature, del fatto che siamo una società multiculturale, multietnica, sarebbe come dire che ci immaginiamo l'Alaska senza la neve, come direbbe qualcuno, ben più famoso di me.